Questo video sarà un video molto video Sì, come tutti i video Perché, ma intanto non capisco perché Ogni volta che parliamo noi adesso se facciamo Bella, rompiamo i timpani da gente Io questa cosa non l'ho capita, non riesco a capirla Forse devo abbassare un po' il gain No, non guinare nulla Perché no gain, no pain, ricordate Comunque no, oggi siamo su questo video Io dove prenderemo per il culo voi Esatto Però sempre in modo scherzoso e fratellanzamente Totale amore, totale per voi Però scrivete certe cazzate Esatto, dato che voi ci siamo accorti Che sotto a molti video ci sono cazzate scritte a voi O sgrammaticate oppure proprio cazzate Ci vogliamo fare un po' risate insieme a voi Magari se siete un po' ironici ridete insieme a noi E non ve la prendete se vi trovate il vostro commento qua sotto Se lo dicate sti cazzi sinceramente Anzi, con la S Poi capirete perché Anzi, prendetelo come un motivo per crescere E farvi di questo una vostra cultura Molto E con proprio un dizionario Molto cultureggiante Sì Comunque andiamo con il primo Sì Alcuni sono censurati perché magari non voglio far figure di merda alla gente Alcuni magari sono Epic Queen Quindi ce li metto con il Li abbiamo messi con la foto e col nome E alcuni Congratulatevi con loro Esatto Appena li leggete Comunque, il primo è Uno sotto al nostro video di Hunger Games Una Una È un po' complottista Sì In questo momento Come è possibile Che al minuto 9.10 Si vede uno screen di YouTube Due punti comunque Vabbè Punto 10 Mi hai ruminato tutto Si vede uno screen di YouTube Con il video Hunger Games con gli YouTuber Non sono un haters No I puntini vanno letti però Scusa Ok Mi hai detti 4 4 Eh però Punto 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 Infatti Erano 16 Zitto Non sono un haters Anzi Anzi Vi adoro Ma Punto Questo Punto Ma Questo Ho capito Non ridi in mazza No devo ridi Punto 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 Ma non c'è bisogno Che dici Ma Questo Ho capito Però Non ti dico I puntini Sono muti L'italiano Ce lo voglio legge Posso Fuori i puntini C'hanno altre qualità Però non parlano Ok Vabbè Ma Questo Mi fa pensare Con l'accento Rigorosamente Con l'accento Fa Ah questo Questo Non ho idea di cosa sia Allora Questo Esatto Questo è uno che ci avverte È il poliziotto Che lo chiamerei Il poliziotto postale Ancora meglio Nello specifico Ragazzi Importante Non create un profilo falso Io l'ho creato per trollare E mi hanno denunciato Questo sotto al video di Abbo La causa è andata al tribunale di Roma E mi hanno chiamato Dal carcere minorile Quindi Per io vostro Per io vostro bene Fermi Siete anche maggiorenni Mi pare Quindi se in caso Andate in carcere Ma non prendete questo commento Alla leggera Ho pagato un bordello Io Gesù Cristo Risponde Sì E io Ho visto Gesù Cadere dallo scooter E lui risponde A Gesù Cristo Ignoranza E Gesù Cristo No E sei Nabbo Risponde Citando Gesù Cristo Ma che stai a dire Citando Gesù Cristo Poi Gesù Cristo dice Infatti ho visto me stesso Cadere dallo scooter Poi sei Nabbo Poi sei Nabbo Dice Tutto apposto Adesso sei morto e risorto Ti sei solo fatto la bua E Gesù Cristo dice Portami rispetto Che il 25 Compia 2015 anni Ma che ve fate Prima di scrivere i commenti Questo sotto al video Del Mangiamo conigli Cioè il mangime per conigli Lui fa Io avevo letto Mangiamo i conigli Ci sono rimasti male Perché da piccolo Un coniglio mi è morto Il cazzo Ogni volta che vedo un coniglio Lo cerco di ammazzare Diabolico Non mi ricordo Sotto a che video era Però questo qua È mezzo arabo Perché fa Non ho capito Cosa voleva dire Sinceramente Mi sembra che era sotto Un video tipo Obbligo verità Tra l'altro molto recente Tre giorni fa Vedete che stava Abbottito Ah no allora È stato uno di quelli recenti Vabbè Seciociociociociocio Comunque Questo sotto al video In cui Dread Mi scartò Su Arez Di qualche anno fa Ormai E questo scrive E Dici Scritto Dal canale di Dread Cioè Ha scritto Dici Sul canale di Dread Capito No no L'ha scritto sul nostro Video Eh ho capito Ma Beh dipende da me Eh però ha scritto Ha scritto Dici Giustamente E E Dici Scritto Sul canale di Dread Vabbè Dal canale di Dread Vorreste affittarvi una casa Preferi quei due Insieme 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 Questa è la categoria Sgrammaticale Dici Scritto Insieme Ah ecco Ok qua c'è Una censura Unicorno Unicorno Che scrive Allontanati dal microfono Ogni volta Perdo un timpano E poi c'è il genio sotto Che dice Abbassa il volume Allontanati dal telefono Idiota Capito Giusti Dispiace Unicorno Però Oppure se sai che comunque Il video comincia così Abbassa il volume Giustamente Jack D Vince Questo scrive Cercate la malsturbazione Spolliciate per farlo leggere Perché così almeno Non sapevate che il video Iniziava così Quindi non avete avuto Il tempo Di abbassare il volume No Perché altro Che cos'è la malsturbazione E quando ti masturbi male Che ti fai male Allora Carlo Questo è un genio A chi è A di chi è la cucina A di chi è Quello sotto risponde Dell'italiano Quanto mi sono tagliato Quando volevo Poi uno sotto al video Di Granas vs Melagoto Si risponde Senza offesa Ma non sapete proprio gioca E ve lo dico da uno Che è il cugino Che gioca nella liga BBVA Ah ok Ma che cazzo avete Una panchina dentro casa E io rispondo E secondo te Abbiamo anche un distributore automatico Dentro casa Si è andato a vedere quel video Capite perché dietro Ci sta Una cazzo di macchinetta Dei bevande Il caffè pure Capito E uno mi fa Vabbè c'avete una macchina dentro casa Vabbè Mi sa che hai capito Un po' male Poi questo sotto ai rap Ciao Granas Sempre stato fan dei like Ma mi hai visto in giro per Dubai Come ogni volta che fai un video Mi sento più rincognonito Yeah Come Dario mi fa la pasta Con i petardi Con i verardi Yeah Quello che dico Nella senso Mai nella vita Di Fiorello Ma che cosa Non mi ricorda Oh mio Dovevo fare Uguale Perché non c'è senso No ma non c'è stata Una rima alzeccata Guarda perché Fiorello Dovrebbe fare rima con quello Però no Quello Cioè Lo dite a fine frase Hai capito Fa rima Vabbè Comunque Diciamo L'orica rima che va È yeah Sì Sai che ero io l'ottesimo Che ha messo like Ma sei l'ultimo A sapere l'italiano Disse La La famosa Katniss Klaus Vincitrice Anche lui Questo ragazzi Era l'ultimo Commento di oggi E Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Vi prego Non mi fate Che mi commentate apposta Perché dovete finire Il prossimo video Comunque Se vi è piaciuto questo video Vi invitiamo a lasciare un like Come sempre Facciamo un gioco Chi commenta per ultimo Sotto questo video Vince Esatto Dai Chi commenta per ultimo Farà un video con noi Dai Dai Vabbè E niente Da noi è tutto Mi raccomando Lasciate like Lasciate se vi è piaciuto E ci sarà un altro prossimo Un altro prossimo episodio Passate sotto i social Che ci sono in description E i nostri Instagram E i nostri Facebook Facebook pagina Tutto Facebook Tutto Instagram Ho notato che Cresco di più su Instagram Quando pubblico un caso Quindi si vede il vostro offerto Di miei confronti Non male Esatto E niente Da noi è tutto Noi ci becciamo Al prossimo video Ciao Beh ragazzi